Ciconia in arrivo per una delle attrici più prolifiche di grande e piccolo schermo. Giorgia Wurt, nota soprattutto per il ruolo di Tessa Taviani nella fiction Le tre rose di Eva ha annunciato su Instagram di essere incinta. La Wurt, 38 anni, è alla sua prima gravidanza. Ho le farfalle nella pancia. Questa la semplice didascalia che accompagna l'immagine in cui la Wurt appare totalmente nuda. Il pancione tradisce uno stato di gravidanza già avanzato. Non sembrano mancare molti mesi al parto anche se l'attrice, sempre discreta sulla sua vita privata, non rivela il sesso del nascituro. Giorgia è così gelosa della sua privacy che anche l'identità del suo compagno, e futuro papà del bambino in arrivo, è avvolta nel più grande mistero. Del passato dell'attrice si conosce solo una storia molto importante con il regista Fausto Brizzi, oggi sposato con l'attrice Claudia Zanella. nata da papà Svizzera e mamma Ligure, la Wurt ha iniziato lavorando come modella e ha quindi debuttato come conduttrice sul canale televisivo satellitare Disney Channel. È stata una delle signorine buonasera di Rai 3, per poi sbarcare nel mondo della recitazione, tra teatro, cinema e tv e non solo. È anche scrittrice e nel 2010 ha pubblicato un premiato romanzo intitolato Tutta da rifare. Al cinema ha recitato in ex, maschi contro femmine, femmine contro maschi, box office 3D Il film dei film. Sul piccolo schermo l'abbiamo vista in un posto al sole, un medico in famiglia 6, Moana dove aveva l'uolo di cicciolina, ho sposato uno sbirro eroico schiavone. La rivedremo prestissimo in Le Tre Rose di Eva 4, in partenza il 5 novembre su Canale 5. Chi se ne frega.